Fede, pronta per una nuova sfida? Prontissima! Dovrei mettere la pettorina a quattro cani in un minuto 52,98. Come il mio record! Via! Cobra, vieni! Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus 50 più con Actifull e Menarini. Pronta per la prossima sfida? Ancora! Ancora!